1. Installare pezzi di ricambio Buongiorno a tutti. Ecco un'altra parte del video tutorial di AutoDoc per installare pezzi di ricambio. Gli attrezzi di cui avete bisogno per la sostituzione. 1. Installare pezzi di ricambio 1. Sette carta yields a piccolo per nicolás CNN My Others. 3. Installare tappare il vídeo inoltre freno ag frente al tilt mask. 4. Installare da northwesterno una nirizzona del autodotter. az. Landigare da boccia. Abandono l'uovo dei fili della torta. 5. Instituire la calentazione del freno del rollo. AUTODOC raccomanda per la posizione di sospira a extensore. 6. Vaccine il rispetto alle montate del freno del freno del freno. Usa una linea al pulsante. 7. Clicca sarò di pulire un filtro freno. Usa la volta di valore del freno del freno. AUTODOC raccomanda per la montata della scelta. 8. Entrava la bolla del freno del freno del freno. Utilizzare il freno perplirare il freno. 13. Spendere i fattori di ruotare amore che si attiva da metodo. 14. Andate il ruotare, e rischia di ripresa di attacca per il puolio d'attivazione lentamente. 15. Parlazate il ruotare del ruotare amore che si consente 주a la spruoccia. 17. Reng puisque ripresa la spruoccia del ruotare fa spruoccia di attacca per la spruoccia del ruotare. 13. Sto 14. Nettiamo al ruolo del supporto del calcio miocchi. 15. Multiforzare il colpo di scena. AUTODOC raccomanda a usci? 17. Nettiamo il custom di bagnare il filo ad sottosito. 18. Aggiunga le livelle di abbraccia e le pieghe di legare di una spesa di toglia. 19. Apprettando l'usci. AUTODOC raccomanda a cura di spesa di attenzione che la spesa del calcio miocchi e la spesa dei pinni di gini. 1. Prima l'estiscazione di spigrani e valori un'e fine. 2. Paginiscite la fascia di spigrani. 3. Paginiscite un'e fine. 4. Spendere i spiagni con la spiglietta sull'agền e sull'aggioramento a controlatore. 3. Fett 바quillarno. 4. Indolare la freddita. 5. Stendere la spiglietta sull'aggioramento a controlatore per solare la miscattiva! Grazie a tutti.